L'appuntamento è per la mattina di domenica 8 agosto alle 11.00 il Montevarchi sarà di scena a Firenze, Stadio Franchi per una amichevole contro la Fiorentina e subito il ricordo va alla partita che in C2 i Rosso-Blu giocarono proprio al Franchi contro la vecchia Florenza Viola. La rete di Cellini segnò un successo clamoroso e al tempo stesso storico. Oggi è tutta un'altra musica, la Fiorentina assaggerà la condizione raggiunta dopo la fase iniziale della preparazione in Trentino sotto la guida di Italiano. Il Montevarchi non gioca una partita dal match di Pieve del 25 luglio contro il Perugia. In mezzo c'è stato un positivo e i 10 giocatori sono finiti in isolamento precauzionale. Si aspetta il risponso da Siena per liberare tutti e poter far lavorare i malotti in santa pace. Per ora l'allenatore si può solo consolare con l'amichevole contro la sua squadra del cuore.